Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo tornando sul caso della ragazzina picchiata al parcheggio della Cadorna, la ragazzina di appena 11 anni. Sentiamo allora quali sono gli sviluppi sulla vicenda e poi su questo gravissimo episodio è arrivato anche un messaggio da parte del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Nessuna scusa, nessun messaggio, non c'è stato un genitore che si sia fatto vivo ad ormai 4 giorni da quanto è accaduto con la mamma della ragazzina di 11 anni, pestata da un branco circa 20 di ragazzi tra i 13 e i 14 anni. Ad affermare che nessuno si sarebbe fatto vivo con la famiglia è stata la madre che ha partecipato in diretta alla trasmissione ore 14 di Rai 2. Il peggio è che dopo l'aggressione loro si vantano di quello che hanno fatto, ci hanno pubblicato anche su Instagram e così è finita l'ospedale. E hanno fatto girare i filmati e non solo, hanno detto che sono anche orgogliosi di quello che hanno fatto e che così la mia figlia l'ha imparato la lezione. Ma la lezione di cosa? Che ne è uscita viva, che non si sa come ha fatto. L'altro aspetto di questa gravissima vicenda è che è avvenuto appunto in una piccola città di provincia. Possibile che non si riesca a presidiare i luoghi ormai più che conosciuti dove solitamente avvengono questi fatti? Ho due figli adolescenti però cerco sempre di tenerli, come dire, sotto controllo. Sarà preoccupata anche quando legge queste notizie? Certo, certo. Io penso che ci sia una recrudescenza. Certo, le notizie girano molto più facilmente attraverso tutti questi veicoli, insomma, sì, sì, assolutamente. Però io penso che ci sia un peggioramento della situazione. A colpire sono le parole del padre, raccolte dalla nostra emittente. Questi bambini, ci aveva detto, devono rispondere per quello che hanno fatto. Se non li troviamo, lo faranno ancora e ancora. Questi bambini devono pagare tutti. L'hanno picchiato, le ha tirato i capelli in quel modo. Una cosa mai vista in vita mia. Non succede al mondo una cosa così. Non li fermiamo, succede anche domani, dopo domani. Intanto proseguono le indagini portate avanti dalla squadra mobile di Arezzo. Alcuni giovani sono già stati identificati. Al vaglio ci sono anche le immagini di videosorveglianza della zona. Nel tardo pomeriggio arriva un messaggio anche da parte del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Sembra impossibile pensare a tanta violenza tra giovanissimi, eppure questo episodio è accaduto. Piena solidarietà scrive alla piccola vittima e ai suoi genitori. Per le ragazze e i ragazzi che sono stati capaci di un gesto così spaventoso, anche se giovanissimi, ci sia una giusta punizione, perché la violenza e la prevaricazione non hanno scuse. E sulle aggressioni che sono avvenute nei pressi dei licei di Firenze, anche lì insomma fatti davvero gravissimi e condannabili, oggi il Consiglio regionale ha approvato una mozione del Partito Democratico. ad illustrarla è stato Vincenzo Ceccarelli. Violenza e squadrismo ha detto inaccettabili il governo con danni. Quanto è accaduto? La preoccupazione è forte, è necessario mettere in campo ogni strumento per contrastare l'odio, la violenza e appunto gli estremismi. Adesso invece parliamo del cittadino tedesco scomparso ormai da giorni. Oggi le ricerche sono state effettuate anche grazie alle unità cinofile, ricerche che vengono portate avanti dai vigili del fuoco. Noi siamo andati sul posto. Proseguono senza sosta le ricerche della 53enne di origini tedesche scomparso da un paio di settimane in provincia di Arezzo. Oggi in azione è anche Lachi, il pastore tedesco delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Con tecniche TAS praticamente gli abbiamo assegnato una zona e stanno battendo questa zona, diciamo è una zona abbastanza vicina all'abitazione. Di Claus, nata a Norimberga, ma da anni residente nel comune di Arezzo, si sono perse le tracce lo scorso 16 febbraio. È scomparso dalla piccola frazione di pietra lavata dove abita. Le ricerche erano scattate sin dalle prime ore, coordinate dai vigili del fuoco con il supporto dei carabinieri. Nei giorni scorsi abbiamo fatto delle ricerche sia con l'aiuto dell'elicottero che con i volontari e squadre nostre. Abbiamo battuto diverse zone, diciamo le zone quelle più probabili, e ancora però non abbiamo avuto nessun risultato. Si cerca nella zona boschiva tra Bivignano, Palazzo del Pero e le ville di Monterchi. Al setaccio anche l'abitazione dell'uomo, una villetta immersa nei boschi, ma di lui ancora nessuna traccia. La zona è abbastanza impervia e poi anche di grandi dimensioni. Anche accanto all'abitazione comunque ci sono dei fossati, delle zone abbastanza impervie e vediamo un po'. Solo pochi giorni prima della sparizione, l'uomo avrebbe avuto un incidente nel comune di Monterchi, a seguito del quale era stata sospesa la patente e l'auto era inutilizzabile. Aveva altri mezzi a disposizione, ma tutti sono stati trovati nelle pertinenze dell'abitazione. Ed intanto arriva anche un appello da parte del comune di Arezzo per riuscire a ritrovare Klaus, grazie magari anche alla collaborazione dei cittadini. L'ente sui canali social ha pubblicato la fotografia e i dati anagrafici del 53N, alto circa un metro e ottanta di corporatura magra e con capelli ed occhi chiari. Il grande cuore di Arezzo non si smentisce mai. L'appello per una carrozzella era partito sui social e poi è stata recapitata in poche ore ad un senza tetto. Era stata una cittadina appunto a voler aiutare un uomo disabile che vive in un rifugio di fortuna. Il suo appello ha subito trovato una risposta. Nel giro di poche ore è stata la Croce Rossa appunto a portare la sedia a rotelle e poi appunto ad aiutare anche ovviamente il clochard. La risposta immediata della nostra associazione a sopperire al bisogno delle persone del territorio per essere ovunque e per chiunque. Si legge proprio sui social. I nostri volontari oggi si sono prontamente attivati per la consegna appunto di una carrozzina ad un clochard. rubano letti in ottone dal mercatino dell'usato. C'è stata una doppia denuncia. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi a Rigutino. Durante la pausa pranzo erano riusciti a rubare tre testiere ed una pepiera di ottone da un mercatino dell'usato ma sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza e così due fratelli sono finiti nei guai. È successo a Rigutino nei giorni scorsi. I due a bordo di un furgone bianco si erano recati al mercatino in quel momento chiuso. Approfittando dell'assenza del titolare e dei dipendenti i fratelli avrebbero caricato sul van la refurtiva per un valore di vendita stimato in circa 2000 euro che si trovava in esposizione all'esterno del negozio e poi si erano dati alla fuga. Il tutto però era stato immortalato dalle telecamere di sicurezza. I carabinieri erano riusciti così a risalire alla targa del mezzo utilizzato per il furto risultato di proprietà di un prastanome. Il furgone però nella stessa giornata del colpo era stato fermato da una pattuglia dei carabinieri in provincia di Terni che hanno immediatamente identificato gli occupanti. Ottenute le fotografie dei due uomini sono stati riconosciuti nelle persone immortalate dal circuito di videosorveglianza. I due fratelli residenti a Roma sono stati così denunciati per il reato di furto aggravato in concorso. E torniamo a parlare del super bonus. Dopo la decisione del governo per la categoria dei lavoratori edili si preannuncia una primavera calda. Scrivono in particolar modo le associazioni di categoria, in questo caso i sindacati e nello specifico la CISL con il nuovo decreto del governo in vigore appunto dal 17 febbraio. Decine di imprese edili della provincia di Arezzo rischiano la chiusura. Centinaia di lavoratori interessati ai progetti legati appunto al super bonus potrebbero seriamente perdere il posto di lavoro. Il numero di imprese iscritte alla cassa edile erano 313 nell'anno 2019-2020 con il super bonus sono diventate 406. Quindi un dato davvero importante. Eliminare in maniera brusca il percorso della cessione del credito e dello sconto in fattura affermano Gilberto Pettarello e Serafino Marino della Filca CISL significa mettere al tappeto il settore delle costruzioni. Una decisione importante sul fronte sanitario da parte della regione toscana non sarà più necessario il certificato medico per gli studenti che si assenteranno da scuola per motivi appunto di salute anche se trascorsi i cinque giorni. Stop al certificato medico per rientrare a scuola in Toscana è ormai legge come in altre 11 regioni. La proposta di legge è stata accolta e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale dunque per tornare a scuola dopo una malattia gli studenti non dovranno più presentare il certificato medico anche se sono trascorsi più di cinque giorni. Esprimiamo soddisfazione per il voto unanime del Consiglio regionale ha detto l'assessore alla salute Simone Bezzini ci sarà meno burocrazia ma senza rischi per la salute pubblica e dei compagni di classe. I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta continueranno ad essere obbligati a segnalare le malattie diffusive e pericolose ai dipartimenti di prevenzione delle ASL e quest'ultimi continueranno ad attuare tutti gli interventi di profilassi necessari a fronteggiare i rischi per la salute. La semplificazione era sollecitata dagli stessi medici del resto la maggior parte delle malattie infettive si trasmettono già dal periodo di incubazione e più raramente durante la convalescenza. È sulla base di questi studi e pareri della comunità scientifica che la Giunta ha deciso di proporre l'abolizione del certificato. Anche il mondo della scuola si è espresso favorevolmente. Mancano pochi giorni all'anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Sabato prossimo ad Arezzo ci sarà una manifestazione intitolata Un murale per la pace una vera e propria mobilitazione appunto ad un anno dall'invasione del popolo ucraino l'evento è promosso dalla rete Arettina Pace e Disarmo. Come avverrà la giornata di sabato? Allora la giornata di sabato che ha un titolo molto bello che si chiama Un murales per la pace si svolgerà in piazza Saiacopo dalle ore 10 alle ore 20 di sabato e sarà uno spazio aperto dove tutte le persone che vorranno potranno recarsi appunto in piazza Saiacopo e lasciare un manifesto un disegno una frase una poesia da attaccare a delle bacheche per creare appunto un murales per la pace. Una mobilitazione di tante associazioni e realtà Arettina e la rete Arettina per la pace e il disarmo ad un anno dall'invasione dell'Ucraina AGLI ARCI CGL e Movimento dei Focolari italiani avranno l'obiettivo di lanciare messaggi di pace solidarietà e umanità. Dovremo essere protagonisti io penso anche alla tradizione la straordinaria tradizione vicino alla rete Arettina per la pace penso a Giorgio Rapira a Monsignor Tonino Bello a Dong Agero e certo noi ci stiamo battendo con la rete Arettina per la pace soprattutto per contrastare il commercio delle armi che è uno degli elementi una delle radici delle guerre non solo di questa guerra e oggi siamo qui nella sede delle ACRI con il presidente provinciale delle ACRI proprio per testimoniare il lungo cammino che il movimento dei lavoratori cristiani ha fatto dalla parte della pace fin dai tempi di Domenico Rosati quando abbiamo iniziato da Palermo a Ginevra la marcia della pace ogni goccia forma il mare quindi anche per quanto riguarda la pace ogni realtà ogni associazione è giusto che partecipi faccia la sua parte in un momento come questo in cui sono tornati in discussione appunto aspetti come la pace l'equilibrio internazionale e il bene comune quindi bisogna ritornare a fare ciascuno nella propria realtà nella propria città nel proprio paese creare reti e lavorare per la pace un'iniziativa che risponde all'appello lanciato a livello nazionale dalla coalizione Europe for Peace per promuovere una mobilitazione in ogni città in cui mostrare vicinanza al popolo ucraino e a tutte le vittime delle guerre e delle violenze è un momento molto delicato molto importante stiamo attraversando una fase difficilissima ed è fondamentale che tutte le forze sane della società tutte le forze non violenti quelle che lavorano per la pace manifestino la loro opinione partecipano ed è per questo che come CGL siamo partecipi a questo evento è importante perché quello che vogliamo fare è portare ad Arezzo l'eco di ciò che l'opinione pubblica italiana in buona parte ritiene che sia la richiesta fondamentale cioè la fine della guerra quindi quella parte dell'opinione pubblica che è contraria alla sua prosecuzione noi proviamo come dire in qualche modo con questa forma a dar voce a quelle persone che credono ancora in qualche modo che sia la via della pace quella che alla fine ci porterà alla chiusura di questo conflitto che è veramente disastroso ed è stato proprio un artista retino Giovanni Pelini in arte Ilenep a realizzare un'opera scultoria che sarà donata durante una cerimonia che si svolgerà proprio domani all'ambasciata dell'Ucraina a Roma intitolata Disperazione Questa scultura nasce da quest'idea di voler rappresentare solidarietà attraverso l'arte nasce nel cercare di voler capire difficilmente ci si riesce lo stato d'animo di chi viene oppresso da un giorno all'altro si ritrova in mezzo a una guerra Disperazione è in nome scelto per l'opera dello scultore Giovanni Pelini in arte Ilenep l'intento è coinvolgere l'arte e la sua carica espressiva in un'azione di denuncia della guerra e di solidarietà verso il popolo ucraino Questa scultura è legata anche alla mia corrente al riflessismo dove mette in evidenza le negatività e le debolezze dell'individuo non c'è più negatività che un'aggressione di un popolo che dall'oggi al domani si trova in una situazione di enorme disagio La scultura sarà donata mercoledì 23 febbraio all'ambasciata dell'Ucraina in Italia data significativa in quanto vigilia del primo anniversario dell'aggressione russa l'evento è il patrocinio del comune di Arezzo La scultura è stata realizzata in pietra e acciaio con la tecnica dello sbalzo e di incisione e dalle dimensioni di 60x50 cm Di fatto questa immagine di questi tagli di questa faccia di sofferenza con le mani sulla testa a volersi strappare questa ossessione nuova che è nata all'improvviso dall'invasione di uno stato di una situazione di regolarità che uno viveva ed è un popolo oppresso È stato siglato questa mattina un nuovo protocollo di intesa tra ESA Impianti Zero Spreco e la Coldiretti riguardo il compost di qualità in agricoltura verrà dunque attivato un servizio di consulenza agronomica per coloro che intendono impiegare il compost di qualità Amelia prodotto proprio nell'impianto di gestione integrata dei rifiuti di San Zeno che verrà poi proposto appunto alle aziende agricole associate a Coldiretti ad un euro a tonnellata ed infine chiudiamo con la notizia della intitolazione alla memoria di Roberto Lorentini una delle due vittime aretine della strage dell'Eisel dell'aula di biomedicina del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo la cerimonia si è svolta proprio questa mattina Lorentini era uno studente del liceo Redi ed è stato insegnito della medaglia d'argento al valore civile per aver perso la vita appunto nella tragica serata di Bruxelles nel tentativo di prestare soccorso ai feriti l'idea dell'intitolazione nasce anche dal fatto che nel 2023 ricorrono i 50 anni dalla maturità appunto della classe 54 a cui apparteneva Roberto Lorentini e questa era l'ultima notizia per l'edizione di oggi grazie allora per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.